Credo che l'autonomia sia una riforma che come è stato dichiarato dallo stesso Presidente del Consiglio dei Ministri è assolutamente necessaria per il futuro del nostro Paese, una riforma che va nella direzione di rendere più efficienti i servizi, che va nella direzione di essere più vicini al luogo di erogazione dei servizi di poter prendere decisioni più responsabili ed è proprio questo il termine con cui definisco l'autonomia, responsabilità di chi amministra e che deve quindi dare delle contrete risposte ai propri cittadini senza potersi nascondere dietro alla giustificazione di Roma inefficiente. Io credo una riforma che sarà un vantaggio per la Lombardia ma sarà un vantaggio per tutte quelle regioni che vorranno richiederla. Le materie sono previste dalla Costituzione e sono 23, è fuori dubbio che ci dovrà essere una gradualità nella richiesta perché altrimenti sarebbe un pochettino complicato organizzare bene le risposte ai nuovi servizi che dovremo rendere.